Ciao a tutti caro amico e amico del seno del cancro, eccoci qui pronti per il vostro rosco per il mese di maggio 2023. Grazie di cuore per esserci sempre, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Ricordo che sono energie generali quindi non possono valere per tutti, per quello vi invito a optare per mie consulti privati di cartomanzia. Lasciatemi un like, un commento, un feedback per piacere. Benissimo e cominciamo con i primi messaggi. Abbiamo la carta del perdono, quindi perdona te stesso o gli altri, carta 68. Quindi qui, durante questo mese di maggio, perdonerete voi stessi per un qualcosa che magari avete fatto a un'altra persona, ok? Oppure perdonerete un'altra persona. Quindi, non so, in alcuni casi potrebbe esserci il perdono da parte di un'altra persona e quindi potrebbe esserci proprio un riaffacciarsi di un vecchio rapporto che magari si era un po', diciamo, incrinato durante le settimane o i mesi precedenti, ok? Non è detto che il perdono debba per forza, diciamo, far ritornare i bollenti spiriti con un'altra persona. No, magari l'altra persona vi ha fatto male, vi ha fatto tanto male, avete comunque sofferto parecchio, state soffrendo, ma voi, in questo caso, non, diciamo, tra virgolette, scapperete dall'altra persona, ma in qualche modo la perdonerete per poi però lasciarla, andare e lasciarla nel passato, ok? Quindi potrebbero esserci varie, diciamo, sfumature. Ma andiamo avanti. Abbiamo la carta dell'asso di coppe. C'è qui carta molto, molto bella perché mi parla di nuovi inizi, nuove relazioni, nuovi contatti, nuovi incontri, qualcosa di romantico, l'amore in vista per voi. Per il singolo potrebbe esserci un nuovo amore in vista, una nuova amicizia, ma per coloro che sono già in coppia, che convivono, sono fidanzati o sono comunque sposati, qua c'è tanta felicità. Portare avanti un bel rapporto, gioire insieme all'altra persona. Potrebbe esserci anche una gravidanza, un concepimento, una frase, una fase proprio di fertilità, ok? Lo scorrere, il fluire delle vostre emozioni. Celebrerete un evento importante, socializzerete, quindi ci sarà maggior vita mondana, maggior contatti sociali con altre persone, quindi maggiori incontri anche dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista amministrativo, anche di gestione delle risorse materiali. Ok? Dipende molto anche dalla situazione privata e personale che vivrete durante questo mese. Ma la stuicoppe è un nuovo inizio, ok? Che ha delle forti componenti emotive, forti componenti comunque sentimentali. Ok? Ma andiamo avanti. La luna, carta 18. Fidati del tuo intuito. Anche se non sai bene cosa stia accadendo, presto tutto sarà rivelato, quindi è inutile preoccuparsi. Una carta di introspezione, una carta legata alla sensibilità, una carta legata all'intuizione. Questa carta può anche indicare qualcosa di nascosto, qualche verità che, non so, salterà fuori. Dovete anche però cercare di imparare durante questo mese a tenere per voi i vostri segreti, i vostri progetti. Quindi se c'è una situazione oppure una persona su cui hai dei dubbi, dovete ascoltare dovete ascoltare appunto le vostre sensazioni. E molto spesso, come dice questa carta della luna, durante questo mese ti verrà comunque consigliato di restare in silenzio, ok? E di prestare molta attenzione a ciò che sta avvenendo intorno a te. Ok? Ma andiamo avanti con la quarta carta. Il rischio più grande di tutti è non rischiare. Guardate com'è forte, il rischio più grande di tutti è non rischiare. Quindi, anche se non sai cosa ci potrà essere dall'altra parte, sei pronto per fare un salto e uscire, dico finalmente, dalla tua zona di comfort. Guardate il simbolo del bicchiere con l'acqua che trabocca e così questo asso di coppe. Guardate quanta similitudine c'è in queste carte. Quindi rischiate, mettetevi in gioco, uscite dalla vostra zona di comfort perché siete pronti. Siete pronti anche per approcciarvi alle altre persone. Guardate poi c'è la carta del rovo, la carta numero 47. Mi parla proprio di una cotta, un'esaltazione amorosa, anche un'intensa attività sessuale. Quindi sicuramente qui, da puntista proprio di approccio emotivo, c'è la possibilità di incontrare qualcuno, fare nuovi incontri. Ripeto, non è detto solo da puntista amoroso, ma potrebbe essere anche un qualcosa legato a collaborazioni lavorative, che sicuramente partono sotto un buon influsso. Dovete anche capire le reali intenzioni della persona che avete di fronte, della persona che incontrerete magari durante questo mese. Dovete però rischiare, dovete mettervi in gioco, mettervi in discussione una volta per tutte. Ok? Benissimo che amici queste sono le vostre energie mensili e vi aspetto sempre qui sul Tano Me. Ciao a tutti e alla prossima!